Hai sofferto a sta roba? Lo sai che cos'è che ho sofferto e più? Oh, bello, dici. Io nella mia testa ero il secondo dei Valespo. Io durante la mia relazione ero il fidanzato di... Ciao, era da tanto tempo che volevo parlare di me sul web e aprirmi un po'. Solo che per me è veramente difficile, sia nel privato che, pensate un po', in un video. Quindi ho deciso di farmi aiutare e chiamare Max, che è un divulgatore che parla di attualità e psicologia. Abbiamo fatto una vera e propria seduta, ho cercato di aprirmi al 100% e abbiamo parlato dell'amore, dell'amicizia e della famiglia. Per me è molto difficile, è difficile anche caricarvi questo video, però se mi dovessi tenere tutto dentro è ancora peggio, quindi iniziamo. Ciao. Ciao. Buonasera. Buonasera. No, mettiti pure comodo, mettiti comodo. Sei tranquillo? Tranquillissimo. Ciao. Edo. Edo. Come stai? Si può star meglio, ma si può anche star peggio. Ok. Quindi meno male. Allora, noi siamo qui per farci una chiacchierata. Ecco qua. Se sei d'accordo io farei un viaggio. Vai. Ok. Allora io, per partire subito con una cosa semplice, che non dà problemi, io partirei con l'amore. Bellissimo. E c'è una curiosità che ho, una domanda che mi faccio in testa. Ma a te, quando ti parlano, ti fanno le interviste, ti chiedono roba così e ti dicono, ma qual è il tuo rapporto con Rosalba? Ma con Rosalba così, ma con Rosalba colì. Che cosa pensi? Come ti senti su sta roba? Che mi sono rotto il cazzo. Oh. Mi sono rotto altamente il cazzo. Ok. Cioè, Rosalba penso sia stato uno tra i capitoli più belli della mia vita. Gli vorrò per sempre bene. Abbiamo un ottimo rapporto. Quando io nelle interviste dico, ho un ottimo rapporto con lei. È vero che ho un ottimo rapporto con lei. Anche perché la gente non lo sa, ma io e lei insieme, in questi quattro anni, abbiamo anche avuto degli investimenti. Quindi tuttora noi abbiamo degli investimenti da centinaia di migliaia di euro insieme. E quindi di base non possiamo litigare, perché se no è un casino. Quindi c'è un compromesso tentato semplicemente dall'economia. Ok, è business. No, però la gente non sa che in realtà io e lei non è che abbiamo litigato o c'è qualcosa dietro. Cioè, noi ci vogliamo bene. Una cosa che mi ha fatto piacere recentemente è che lei stava vivendo un momento no e la prima persona a cui ho pensato sono stato io. Mi ha scritto, mi ha detto, Edo non mi sento bene, mi puoi dare una mano? Io stavo fuori per lavoro e comunque la prima cosa che ho fatto l'ho scritto e poi l'ho videochiamata per farla stare tranquilla. Perché comunque tra me e lei c'è un ottimo rapporto. Io sono appena stato a Napoli, la prima persona che mi ha scritto appena ha visto la storia di Napoli è stata la madre di Ross, dicendo che fai di bello, passa da me che ci vediamo. Cioè, comunque c'è un ottimo rapporto tra di noi. Però la cosa che mi dà fastidio è che se io dovessi fare un'intervista con te e quindi mi fai delle domande sul mio lavoro, cazzo. Scusa. Tanto qui si può dire tutto. Guarda, oh, stai comodo. Sono comodo. Stai sul divano, sei il padrone. Sono il padrone. Dico, cazzo. Tu mi puoi chiedere qualsiasi cosa. Mi sento... È come se tutto quello che faccio, tutto quello che ho fatto e tutto quello che farò non sarà mai all'altezza di essermi fidanzato. Ok. Cioè, io mi sono fidanzato per amore. Sono stato con lei per amore. Abbiamo condiviso tantissime cose sul web. Non abbiamo condiviso tantissime cose sul web. Però io ormai con Ross mi sono lasciato da tantissimi mesi, no? Ho fatto tantissime cose tutti i giorni. Faccio tantissime cose nell'ambio lavorativo. E mi dà fastidio che la prima cosa che mi chiedi è come va con Ross? Che poi è una domanda se messa in mezzo a tante altre domande... Sta. Ci sta. Perché ci sta sempre il gossip, ci sta sempre la domanda sulla relazione. Ci mancherebbe. Però se basi il tutto su una mia vecchia relazione, vuol dire o che non mi segui abbastanza o che non te ne frego un cazzo di me. E se te mi intervisti e non te ne frego un cazzo di me, mi fa star male. Ma ti faccio una domanda su sta roba che secondo me è interessantissima. Ma quando... C'è anche quella parte che quando ti chiedono di Ross, ti dicono Ross, Ross, è come se non ti permettessero di chiudere un capitolo. Cioè nel senso, mi spiego meglio. È come se qualcuno ti aprisse sempre quella porticina, no? Che ti mettesse sempre quell'ambito amoroso. Te la senti sta roba o...? Tantissimo. Allora ti dico, io e Ross abbiamo iniziato nel 2019, se non sbaglio, a lavorare insieme a Calvin Klein. Ok. Ok. Dove io e lei abbiamo fatto una campagna insieme. Nel 2020... Non so se 2019 o 2020, comunque per due anni abbiamo lavorato insieme. L'anno che poi ci siamo lasciati, giustamente non abbiamo lavorato insieme. Ci sta giusto. Cioè, anche il brand di per sé ha detto piccio. Evitiamo. Evitiamo. Ma anche perché si perde pure quell'alone. Sì, sì. Ok, c'è varie motivazioni. In 2023 c'era la campagna di Jenny delle Blackpink, che ha fatto una collaborazione con Calvin Klein. E Calvin Klein ha contattato di nuovo sia me che Rosalba perché è lavoro, ok? Per fare un lavoro insieme che doveva essere fatto in Corea. A me mi ha detto... Giustamente a Rossi ha detto, te la senti se mettiamo Edo? Edo. E lei ha giustamente detto, perché no? Ma infatti io l'ho saputo tramite lei. Prima che mi contattassero, lei mi ha proprio detto, Edo, che bello, finalmente vieni a Seoul, ti faccio vedere la Corea. Io facevo, perché? Io non capivo perché. Lei mi ha detto, niente, perché mi hanno chiesto e... Volevano sapere di te. Se lei magari avesse risposto no, al posto mio magari c'era un'altra persona. E quando io sono andato in Corea, per fare un lavoro con Calvin Klein, La gente dice, ah, quanto sei sottone che vai ancora lì in Corea? È lavoro. Cioè nel senso, che vuol dire? Oppure, che carino che sei, ma siete tornati insieme? No, io sto andando in Corea per fare un lavoro. Cioè, capito? È una cosa che... Adesso, lavoro con Pokémon insieme in Giappone. Non è che se ci siamo sia io che Ros, vuol dire che siamo tornati insieme. Noi siamo due persone che se vogliamo un botto di bene, ma che lavoriamo nello stesso ambito, nello stesso mondo. Quindi è normale che potenzialmente ci trovano nello stesso posto, allo stesso momento, ma non significa niente. Capito? Ma io poi in realtà invece ho trovato... Ho visto pure il video dove tu l'hai accompagnata in aeroporto quando partiva. Secondo me, quello è un video molto carino. Pure la cosa. Però, se mi permetti, vorrei fare un salto e poi ritornerei a questa storia. Da quando ti sei lasciato con Ros, quindi con questa storia importante, sta roba così, ti è cambiato il tuo approccio proprio a livello di sentimento, del sentimento amoroso, anche dello stacco una persona accanto? Cioè, ti ha modificato? Che gli è successo a Edo, ok? Noi siamo amici con Ros, fighissimo. Collaboriamo insieme, ci vogliamo bene, è bello. Però è sempre stata una rottura, una storia, no? Che ti avrà lasciato uno strascico. Quindi io ti chiedo, come è diventato dopo sta roba Edo? Ah sì, io diciamo che sotto il punto di vista amoroso, non ne ho mai parlato sul web di Diva Verità, o almeno ne parlavo solo dicendo cazzate. Ok. Cioè, quindi non è che non ero serio, è che non ho mai voluto dire la verità. Ok. Ok, quindi quando magari mi chiedono delle cose sull'amore faccio Ah sì, rimarchi un botto, sono figo pazzesco, sono grosso, ok? E questo però lo sappiamo, lo vediamo tutti. E questo è vero. E questo l'abbiamo capito, ok? No, però non ti rispondo mai seriamente. Ti dico, dopo Ross, difficilmente mi fidavo, difficilmente mi sono fidato delle persone, delle ragazze soprattutto. Perché la differenza è che quando io mi sono messo con lei, già stavo sul web, ok? E anche lei è già stato sul web. Adesso sono sespo. Io in realtà sono una tra le persone più umili che conoscerà mai la tua vita, per quello che posso potenzialmente mostrarti. Io sono molto umile. Fortunatamente ho ancora dei valori, ancora. Poi non so se in un futuro li perderò, però in questo momento... Speriamo di no. Spero di no anch'io. Però è difficile in questo mondo. Però ancora ho dei valori. Adesso ogni ragazza che si avvicina, per me, è difficile. È difficile aprirmi con loro. È difficile fidarmi delle persone. Ora ti racconto una storia. Quando mi ero lasciato, poi quell'estate, sono andato in Islanda per un lavoro. C'erano delle persone che ci provavano con me. Per dirti quanto psicologicamente è dura questa cosa. C'erano delle persone che ci provavano con me, che erano delle ragazze islandesi. Quindi nel senso che... Al di fuori. Al di fuori di tutto. Io non mi fidavo neanche quelle ragazze. E una ragazza è stata molto esplicita anche con me sulle cose. Io non... Non le ho dato la fiducia. E tuttora io so che quando magari mi apro con delle persone, soprattutto con delle ragazze, dentro di me io c'ho un blocco. Che non è per colpa di Rosalba. Cioè, lei non mi ha mai bloccato né niente. Anzi, lei mi ha insegnato tantissimo. È quello che sono adesso. È un po' difficile da spiegare. Perché io, purtroppo, una cosa che dico sempre, e lo dico sempre anche a Valerio, il problema mio di Valerio è che noi abbiamo iniziato quando avevamo 17-18 anni insieme. E poi abbiamo avuto il boom. Cosa significa? Significa che io e Valerio non abbiamo mai vissuto la nostra gioventù sotto un determinato punto di vista. Perché l'anno in cui una persona pensa Ah, ah, me devo divertire, ho finito scuola, devo fa' questo, quello, quell'altro. Io e Vale eravamo fidanzati, ma che non stavamo neanche con le nostre fidanzate, perché stavamo tutto il tempo in tour. Mi ricordo che mi ha impressionato quando mi hai raccontato che voi avete passato un sacco di tempo in una sorta di gabbia dorata. Che c'avevate, stavate chiusi dentro sta stanza, potevate ottenere quello che volevate, ma non potevate uscire, era un po' complicato, no? Lo sai che io in quel periodo, mi ricordo, stavo, non so se in Sicilia o in Puglia, non ricordo dove è preciso, ma ho fatto un pezzo, una canzone, che non è mai uscita e molte persone lavorano con me tutt'ora, dopo 8 anni di lavoro mi dicono, bro, fallo uscire. Dove ti racconto semplicemente, io la volevo far uscire inizialmente, poi ho detto, no, me la tengo per me. Dove facevo l'esempio di io, che era un leone, che stavo dentro al circo. E quindi è tutta una cosa che in realtà noi avevamo tutto, ma di base non avevamo niente. Anche perché poi sono successi tantissimi problemi, siamo andati in causa legale proprio con alcune persone, quindi è stata molto grave la situazione. Però noi in quel momento avevamo tutto, in quel momento io, cioè, e Valerio potevamo dire, questa è una polo. La gente credeva che questa fosse una polo. Avevamo letteralmente tutto, però l'unica cosa che facevamo era andammo in un posto, stavamo lì, stavamo ore lì dentro, non potevamo fare niente, facciamo ore e ore di meet and greet. Poi a me fa sempre piacere incontrare persone che mi supportano, ci sta. Però psicologicamente io e Valerio, cioè, io mi ricordo delle scene in cui Valerio si svegliava a buffo, cioè, che piangeva mentre dormiva, cioè, porca troia, cioè... Non ti nutri, non c'è nutrimento per te, perché tu sei sempre volto al lavoro e agli altri. Io, infatti, quei sei mesi di tour ho preso 9 kg ed è lì, è per colpa del tour che io ho avuto poi problemi con l'alimentazione che mi porto tutt'ora. Però aspetta, fermo che sennò si stiamo a perdere la questione amore. Ah, vai, vai, scusa, scusa. Perché io c'ho una domanda sull'amore, è una curiosità. Io ti metto sta supposizione nella testa. Vai, vediamo. Ecco, mi sa pure scordare di mettermi il fondotinta, so bello? Scusa, c'ho molta insicurezza. Non ti preoccupare. Per me sembra ragazzo, io poi non lo so, purtroppo... Dai, non ci provare con me. Non ti do fiducia, amore. Me la conquisterò la fiducia. A proposito di questa cosa della fiducia, guarda che è interessante. Io ti faccio una domanda. E se questa cosa che è reale, tangibile, perché immagino che deve essere complicato, che tutto il tempo qualcuno ci prova sempre perché vuole qualcosa, anche se non sei tu in prima linea per un contatto che hai, ok? Quindi immagino sia complicato. E se una parte della tua mente abbia messo sta roba qui per difendersi, mi spiego. Io non ho fiducia nelle persone perché così soffro meno. Ho un... È come se la tua mente... Non so se è così, io te lo sto per fartici ragionare. È come se, arrivato a un certo punto, hai notato magari sta cosa, però poi a un certo punto ti ha fatto comodo pure vederla, sta roba. Perché? Perché ti aiuta. Ti aiuta a sentirti più tranquillo. Dici, ok, non soffrirò più perché quella persona non la faccia avvicinare perché mi userà solo. Allora, in realtà... Non è perché mi farà soffrire a me. Allora, in primis, perché io purtroppo so come sono fatto e ho più paura di far soffrire altre persone. Ti faccio un esempio. Vai. Con me è difficilissimo litigare. Perché io non ho voglia di litigare. A me proprio faccio... Che palle! Anche perché penso che... Questa poi è una cosa mia, sicuramente mi sbaglierò o magari tra qualche anno cambierò idea. Però penso che il litigio lo fa solo chi non è capace ad affrontare un discorso. Ok. Ok. Questo è il mio pensiero perché se io dovesse avere un determinato pensiero e tu un altro, perché dobbiamo litigare? Abbiamo un dibattito. Poi alla fine il dibattito puoi vincerlo te, posso vincerlo io e puoi andare in pareggio. Ok? Quindi partiamo da questo presupposto. Qualsiasi problema si può avere un dibattito. Tra l'idea di questo, io purtroppo, cioè il lavoro mi ha proprio mangiato, mi ha allogorato, io non ce la faccio perché io vivo per il lavoro, per quello che faccio, ho determinati obiettivi e devo lasciare qualcosa. Quindi io metto anche in secondo piano una relazione, la mia famiglia, le mie amicizie, pur di lavorare. Ok? Io mi ricordo che in realtà con Ross non litigavamo spesso, prendo lei come esempio perché è l'unico esempio che ti posso fare. Però l'unica volta dove lei mi diceva bro hai rotto il cazzo, letteralmente, era quando io lavoravo troppo. Io mi ricordo moltissime notti dove magari andavamo a dormire, cioè quindi lei stava lì appena si addormentava mi alzavo e mi mettevo nella zona ufficio per lavorare e magari rimanevo un'ora, due ore, tre ore lì. Oppure stessa cosa anche durante i viaggi. Io pensavo sempre al portare o il continuo a caso o determinati valori. Io ho sempre avuto una visione molto diversa che so che potenzialmente è una visione sbagliata e quindi in realtà lo faccio perché se io e te ci dovessimo sentire per iniziare magari una relazione eccetera, io so che un domani sparisco ma non è che sono stronzo. Io non sparisco perché magari non ci tengo a te, sparisco perché ho infinite cose da fare e se ti tengo un attimo sotto che non ti rispondo o sparisco è perché sto facendo altro. Cioè io potenzialmente per quello che faccio posso anche stare tre settimane di fila fuori senza vederti ma non significa che non voglio star con te e quindi lo faccio anche perché so quanto è difficile perché il periodo in cui mi ero fidanzato con Ross cioè a ottobre 2018 verso gennaio 2019 è uscito Valespo e poi per fine gennaio inizio febbraio ha iniziato il tour. Io stavo due giorni a settimana con lei ok? Che ti dici io sono due giorni a settimana? Cioè ci sta. Però potenzialmente io partivo il mercoledì tornavo il lunedì dopo stavo solo il martedì a casa poi ripartivo e quindi mettevo in primo piano il lavoro perché so che a lungo termine è quello che mi potrà dare di più e quindi in realtà io mi comporto così con determina persone con le ragazze soprattutto ma anche con i miei amici ok? perché non è che io metto in primo piano il lavoro però so che è quello che devo fare perché ho determinati obiettivi è perché se non dormo la notte è per quello e a me è successo molto spesso che stavo un giorno due giorni tre giorni senza dormire dove poi una certa impazzisco e svengo oppure mi sento male o perdo la voce è perché lavoro però non tutti possono capire questo perché se te sei una persona che vuole stare con me per tutta la vita ma non capisci perché io magari per due giorni non ti rispondo o magari sparisco per due settimane perché sto dall'altra parte del mondo a chiudere determinati accordi o a fare determinate cose è difficile spiegare e non hai mai pensato che il fatto questo tuo altruismo nel pensare nel dire ok io non voglio far soffrire pure l'altra persona non mi comprende non hai mai pensato che in parte potrebbe essere un ragionamento un po' egoista perché non spieghi all'altra persona e non dai nemmeno all'altra persona il tempo di comprendere una cosa del genere e quindi è più una cosa per te egoista in questo senso non egoista in ambito no sei uno stronzo sei un egoista proprio per te che è una cosa che fai più per te che per l'altra persona hai ragione fai che ditte è vero no scusa è vero no allora sai qual è il problema il problema è che è difficile spiegare e più che altro è difficile da far capire perché una persona che non sta dentro non dico alla mia testa ma proprio a questo mondo in generale vai gliela a spiegare però se ne vale la pena bro tempo e modo li trovi dai cioè se io vedo io trovo sespa è perfetta è una persona riesca a superare quell'impasso pure della fiducia come fai a capire che è perfetta allora io vuoi il mio punto di vista reale sì ti do il mio punto di vista reale allora secondo me la persona perfetta non esiste però io penso sta roba penso che ci siano delle persone che ci possono arricchire e dare delle emozioni nella tua posizione credo che se io ci avessi la rilevanza sul web che c'hai tu scoperei un botto ma quello già lo faccio no questa taglia sto scherzando sto scherzando no però se mi trovassi nella tua posizione la paura sicuramente che qualcuno mi stia utilizzando c'è però nella vita è anche vero che bisogna rischiare perché tu puoi riuscire in realtà a separare le cose perché se io trovo sespa come dicevo prima è sespa che fa l'architetto è un architetto che fa sta roba c'ha il suo mondo c'ha la sua cosa abbiamo due vite parallele quindi non ha bisogno della mia del mio mondo non si parla di bisogno non si parla stavo avendo un discorso del genere con un mio carissimo amico vai ok in realtà molte persone sembrano più affascinanti di quanto lo sono realmente solo per il semplifatto di chi sono ti faccio un esempio io sto parlando di questa persona e ho detto così completamente a caso stavamo in giro vedo un cartellone di zendaglia che stava non mi ricordo che brand però stava sponsorizzando e faccio mazza è proprio figa zendaglia ok e questa persona mi ha detto non è figa secondo te è figa solo perché è zendaglia e quindi abbiamo avuto in realtà un discorso di un'ora solo sul fatto che pure se te non mi segui non sei niente ti affascina questa cosa è molto estremizzante sta roba che è stata a dire capiscilo dal mio punto di vista ok cioè ti affascina perché è come la malavita ok una persona che ha la malavita piace a molte persone perché è quel senso del rischio ok non so se mi sono spiegato no no ho capito ho capito stessa cosa chi è magari conosciuto sul web ti affascina la cosa anche se non te ne fotto ne merita minchia di avere quei numeri e quelle cose poi ovvio magari magari anche vedere a me è successo molto spesso ti dico anche un'altra cosa sto parlando di una persona con una ragazza ma niente di che cioè sto parlando semplicemente per delle cose di chiacchiere no no stavamo su un set di lavoro ok ok questa ragazza mi dice oh comunque si vede che a te piace fare la bella vita io dico sì cioè mi piace ma perché io la mia fortuna anche perché ho il valore di alcune cose perché io non è che sono mai stato ricco di famiglia qualcosa sì una famiglia normalissima eccetera adesso che magari posso permettermi di determinare cose mi piace investire i miei soldi mi piace viaggiare a fare le mie cose ma poi saranno per affari due insomma sì sono cose miele e quindi ci siamo messi a parlare un po' di viaggi di cose dice ah vedo che viaggi sempre in business class vedo che c'è sempre magari un vestito firmato anche se non ci fai caso comunque c'è sempre vestito firmato eccetera anche a me piace così cioè sì bla 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 ci mettiamo a parlare una ventina di minuti e mi fa senti ma quindi domani mi porti da Cartier e gli ho fatto no però ho capito che magari lei non voleva neanche dirlo con cattiveria però a molte persone affascina questa cosa del sei un ragazzo giovane che ha un obiettivo nella vita che ha una carriera molto stabile sei molto affermato nella cosa che fai che in confronto agli altri dell'età tua hai un po' di soldi e che sei anche conosciuto ma se io non ti conosco però allora io quello che ti dico è che se trovi una persona che dall'altra parte ha una sua vita ben strutturata con la sua carriera con le sue cose è chiaro che pure tu puoi rimanere affascinato e dici cazzarola che figata sta roba mi piace conoscere questo mondo conoscerlo non vuol dire che ci vuoi entrare conoscerlo e basta questa è pure la questione della fascinazione nell'essere affascinati dalla persona è come quando tu esci con una persona no? e gli fai cerchi di essere non lo so non esci con nessuna persona non ho mai avuto un appuntamento ok non lo so cioè quando esci una persona ok non so cosa significa uscire con una ragazza ok perché non siamo usciti con una ragazza perché sono sempre stato sespo e quindi non posso uscire pubblicamente con una persona ok allora cerchiamo di cambiare un attimo il tiro quindi io per questo non riesco a capirlo perché quello che ti dicevo anche prima io e Valerio abbiamo vissuto in una bolla quindi non sappiamo determinare cose cioè io non so cosa significa ti passa a prendere sotto casa e andiamo a cena fuori ti manca essere un ragazzo che sta di fronte a una ragazza e che sei sì una persona semplice senza aver stallone di essere sto quasi personaggio passami il termine tra virgolette mitico del web non hai mai vissuto sta cosa del no ok solo all'estero magari ce l'ho ma neanche ma quanto entra in gioco e qua secondo me possiamo aprire tanta roba pure che avvicina l'amore quanto entra in gioco la questione della fiducia perché un'altra cosa che ti volevo chiedere siamo partiti a parlare dell'amore con una domanda su Ross e io ti vorrei fare un'altra domanda su Ivalespo invece ok e da lì però dopo che mi hai risposto alla domanda vorrei cercare di trovare un nesso comune perché è sempre un tipo d'affetto ok ti chiedo ma quindi si sono sciolti Ivalespo? io so già la risposta ok è una domanda retorica per quanto mi riguarda però ti chiedo Ivalespo si sono sciolti veramente? è veramente successa sta roba? per dirlo alle persone ma in realtà Ivalespo non sono mai stati così tanti uniti cioè nel senso il problema è che io e Valerio parliamo tantissimo siamo sempre insieme lui ha preso una determinata strada lavorativa io un'altra ma sotto molti altri punti di vista comunque lavoriamo sempre insieme anche per dire lui fa musica lui l'unica persona di cui si fida musicalmente e io non ne capisco un cazzo di musica sono io cioè a me mi dice Edo devo uscire questo nuovo pezzo secondo te come possiamo annunciarlo? secondo te che dobbiamo fare? e io che cazzo ne so vorrei rispondere però capito so che si fida di me quindi in realtà noi tuttora lavoriamo insieme o stiamo insieme per cose nostre quindi in realtà io e Valerio siamo migliori amici anche se in ogni vlog video o qualsiasi altra cosa non c'è lui ma non è che non c'è lui cioè lui c'è sempre è solo che magari non è stato davanti la cam cioè io l'ultima volta che ho parlato con Valerio penso sia un'ora fa come ci parlerò magari stasera come ci parlerò domani perché anche con cioè è difficile a spiegare non so se mi so spiegato no 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 in realtà sei stato molto chiaro guarda io ti ho fatto sta domanda adesso per comprendere una cosa e innanzitutto così ne avevamo questo gossip il po' maledetto una volta per tutte che ci ha rotto le palle basta con sta storia magari ma solo perché perché la gente non vede più che facciamo tutti i giorni i vlog su YouTube insieme ma sono cambiati i nostri obiettivi sono cambiate determinate cose cioè comunque lui si sa pure che è chiuso un percorso ma più tanto lui non fa più video su YouTube cioè nel senso lui ha due anni tre anni che non fa più video su YouTube ci sta che non fa più video su YouTube anche spesso cioè se dobbiamo registrare qualcosa magari lui sta dietro la camera ma la gente non lo sa perché stiamo insieme e adesso arrivo al perché ti ho chiesto proprio in questo momento dei Valespo ok c'è una cosa entrambe il tipo di relazioni che ci ha avuto sia con Rosalba che con Valerio sono delle relazioni perno ok affettive ok ma con una base lavorativa all'interno e allora io ti chiedo quanto questo per esempio tu prima hai parlato del tuo rapporto con la difficoltà nell'avere non aver mai avuto un appuntamento con una ragazza io ti chiedo questa cosa quanto va a inficiare anche a livello di amicizia cioè quanto ti ha modificato vivere delle relazioni così vicine al lavoro perché se ci pensi in tutti i discorsi che abbiamo fatto ora anche quando siamo andati nella parte più profonda di Edo esce fuori la questione lavoro la parola lavoro credo sia la più usata di sempre quindi è una parte importante non allora io ti chiedo pure questo tipo di relazione amicale importante vera ti ha modificato pure questa cosa della visione della fiducia ti ha fatto un po' aprire gli occhi su delle cose ma ti ha chiuso pure tante porte in ambito proprio emotivo sentimentale sì nell'ambito d'amicizia io infatti dico sempre che i miei due migliori amici sono Alessandro Montesi e Valerio Mazzei perché sono le uniche due persone che ci sono sempre state per me hanno da prima che io diventassi quello che sono adesso al di là dei soldi della fama di qualsiasi cosa anzi la cosa bella è che tutto questo l'abbiamo creato insieme perché noi siamo partiti insieme abbiamo fatto tutto insieme poi anche quando le nostre strade lavorativamente si sono separate per diversi motivi abbiamo continuato ad essere amici tantissimo parliamo tutti i giorni e anzi ci aiutiamo a vicenda Montesi fa ridere però è l'unica persona a cui io gli do un mio progetto in mano e gli dico cambia quello che vuoi mi fido di te ok questo io non lo faccio con nessuno nessuno l'unico stessa cosa con Valerio gli dico questa è una cosa che io devo gestire perché è una cosa che ho in mente pensaci te poi fammi sapere ok sono l'unico due persone di cui mi fido tutte le altre persone erano dopo io comunque gli vorrò tanto bene ma non quanto loro perché so che loro ci sono sempre stati e anche con le loro piccole cose ti faccio esempio stupido no tipo Valerio te non l'hai mai conosciuto no ok è una persona molto difficile se non lo conosci ok molto difficile per dire lui non è la persona che al tuo compleanno ti fa un regalo non è la persona che ti fa gli auguri durante le feste è la persona che quando ci deve essere c'è e quando gli viene gli viene in mente è la cosa più bella cioè è andata a fare una vacanza ha trovato una lattina di Naruto ha pensato a me me l'ha portata perché mi piace Naruto questo per me vale più di un super regalo un super regalo fighissimo del mio compleanno cioè capito proprio una cavolata stessa cosa Montesi cioè non sono quelle persone che ti fanno le cose che le sce ma io ho fatto il regalo a Montesi e sono andato a Madrid ho pensato a lui non per regalo non per niente semplicemente ho visto una cosa l'ho pensato e io l'ho portato a lui felicissimo e stessa cosa Valerio quindi a livello di fiducia della relazione di amicizia io sono una persona molto estroversa con le persone io parlo con tutti che però mi diverto allora parlare con tutti è un conto donarsi agli altri donarsi è è un altro no no ovvio cioè nel senso io tu sembra che veramente te doni io è come se vedessi due persone uno presuccesso e uno post il presuccesso perché se tu ci pensi pure con Rosalba quando stavi insieme sì avevi già preso però insomma stavi entrando in questo mondo ma ancora non c'era stato quel e la cosa pure che mi sta impressionando adesso è che tu dici perché loro ci sono sempre stati c'erano sempre però è anche da dire cioè se io mi conosci oggi è chiaro che prima non potevo esserci è anche una questione di tempo e ovviamente il mio rapporto con te varia perché io sono una persona che è diversa dal ragazzino che ha cominciato a fare youtube no? e quindi c'è un percorso diverso e quindi veramente vedo proprio due persone è come se ci fosse un pre e un post ma pure a livello emotivo perché alla fine la cosa che ti blocca sempre sembra correggimi se sbaglio è sempre sta cosa pure del entrare nel tuo mondo entrare nel tuo lavoro poter vedere questa cosa mi fido solo di faccio vedere solo a quei due parlo con Rosalba di questo perché mi è successo molto spesso in questo mondo che ti fidi una persona e poi quella persona non so come dirlo non ti usa peggio di ti usa che sei vorrei dire una parola che però non posso dirla perché te lo mette nel di dietro te lo mette nel di dietro nel senso però delle persone in cui te gli avresti dato tutto ma sì che ti usano in un determinato modo e quindi visto che sono successe queste cose e sempre succederanno io sono sicuro che ci sono poche persone che non si comporteranno in questo modo come fai a essere sicuro e sono la mia famiglia e i miei migliori amici come fai allora sulla famiglia sono sicuro è un altro percorso sono sicurissimo perché sono loro perché non può esistere qualcun altro al mondo che non fa sta roba perché dal momento in cui te dai fiducia anche ti dico anche semplicemente io ti dico tutti i miei segreti che ho imparato in questo in questo mondo vabbè a parte che non te li dirò mai tutti ovviamente tiro la maggior parte io penso no no anche se ci conosciamo dai ma penso ma penso che sia pure spirito di sopravvivenza per te meno male no no non è spirito di sopravvivenza che è sempre di fiducia ok devi imparare da solo determinate cose e stiamo d'accordo ok ma è pure in realtà è pure perché devi mantenere la tua identità una persona non può sapere tutto tutto da te no no è importante pure che tu ci abbia il tuo trucco sì 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 delle persone che io gli dicevo determinati i miei progetti determinate le mie cose e che avevo riposto fiducia in loro magari cioè è successo che non l'hanno rispettata sono successe cose che mancanze di rispetto cose brutte sia lavorativamente che non che mi hanno creato molto dispiacere e quindi per questo ti dico a livello di fiducia io sono sicuro che se vado da Montesi o da Valeri gli dico io devo fare questo oppure sei la cosa più bella del mondo loro dicono fallo e mi aiutano a farlo non un'altra lezione dico io devo far questo e magari scopro che o mettono un bastone alle ruote o vanno a dirlo ad altre persone in modo sbagliato però secondo me questo è pure allora nel mondo del lavoro in generale purtroppo c'è sta roba c'è l'essere spregiudicati è sbagliato e è sbagliato e siamo d'accordo però posso assicurarti che sta roba è molto più amplificata cioè io sono da molto poco nel web ho fatto un miliardo di lavori ho fatto il cameriere ho fatto il barman ho lavorato per una grande azienda ho lavorato in un ambito terapeutico e qual è il peggiore? questo qui quello che stiamo vivendo il mondo del web è il peggiore da tutto quello che hai fatto ed è per questo che ti dico ok capisco il punto di vista però ti dico pure guarda che c'è pure un'altra parte che non hai visto perché tu sei stato me l'hai detto tu prima tu sei stato dentro una bolla da quando sei piccolo cioè tu stavi in una fase proprio d'adolescenza però ti posso assicurare che uscendo fuori dal mondo sono rare ma non è impossibile trovare delle persone io ti dico sono entrato nel mondo del web con entusiasmo allora c'è un mio amico uno dei pochi amici veri che ho su web Livio Marcone che mi dice sempre mi prende in giro mi dice tu quando sei entrato eri così gioioso così sorridente tu sai cosa significa uscire mano per la mano con una persona che vuoi conoscere? sì io no ok e è questo il problema e quindi però perché c'è questo problema? perché non posso farlo aspetta non posso farlo non puoi farlo liberamente totalmente che sai cosa significa? dici io non li dico con nessuno ma se me ne amo no 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 non scherzo ma però anche tu sai cosa significa dire delle cose politicamente scorrette? sì sì in privato in privato? molto in privato più in privato di quello che immagini no appunto ma è una cosa che io ho anche ansia di parlare di cose private in pubblico anche se sto con il mio migliore amico perché faccio ce possono sentire ce possono seguire ce possono far cose questa cosa mi ha creato dentro di me proprio un'abitudine del ti do confidenza ma fino a una certa anche io magari voglio conoscere te come persona perché magari voglio passare il tempo con te ci sta ci sta io non ti darò mai il 100% confidenza però è normale edo cioè mi spiego appunto è normale aspetta è normale fino a un certo punto nel senso perché? perché un conto è che io piano piano apro delle porte faccio anche dei tentativi e vedo la cosa un conto è che so già che mi fermo a quel punto a prescindere no 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 dipende da tantissime cose però però se non fai un tentativo allora se tu mi hai detto io non sono mai andato mano nella mano in giro ma non lo farò non ho parlato ma se tu un giorno negli innumerevoli viaggi che fai te trovi a in Burundi te trovi lì e vuoi provare una cosa ma no perché se vado in Burundi con una persona perché? magari qualcuno lo scopre e quindi? e sti cavoli e quindi? no no ovvio c'è ragione allora fammi capire un attimo una cosa allora io so la mia figura pubblica il mio lavoro la mia cosa che sono fondamentali e siamo d'accordissimo però io non devo dare nutrimento al mio essere umano non posso perché evidentemente qualcuno mi vede lo sai dentro questa casa c'è un'unica regola non ci sono telecamere e nessuno può fare video lo sai perché? perché a parte del fatto che tutto il mio condominio ha 40 telecamere di sorveglianza tra cui proprio davanti la porta proprio perché dentro la mia testa c'è io l'unico posto in cui sto tranquillo e posso essere me stesso è qui dentro e ci stai giusto appena io apro quella porta ok ti faccio un esempio un piscello mi fa roto il culo per x motivi e io lo insulto so io lo stronzo fidati so io lo stronzo e io posso rovinare cioè io posso rovinarmi la vita semplicemente per estrapolazioni di cose però tu stai parlando di un'altra cosa adesso sei ritornato all'ambito più frivolo ok noi stiamo a parlare dell'ambito più interno ed emotivo io voglio dire una cosa ma se te vengono a sapere che vai in Burundi e te vedono mano nella mano coppa squalina ok sanno che sanno che sei andato lì non sanno che hai detto non sanno che hai fatto non sanno che è successo e questo è il problema non lo sanno ma sicuramente diranno qualcosa a me la cosa che mi ha dato più fastidio di quando esempio mi sono lasciato con Ross la gente che diceva fake news porca puttana non è vero cioè diciano è perché Sespo l'ha tradita è perché Rosalba l'ha tradito è perché è successo questo è perché quell'altro no ma tu te fidi di te io di me sì poco ma sì no scherzo sì mi fido di me no tu ti fidi veramente al 100% di te 100% io reputo che non c'hai uno specchietto cioè non c'hai un punto morto di te secondo te cosa intendi quel punto morto mi spiego meglio prendiamo sta metafora mi è venuta adesso non so come funzionerà quindi scusa se non mi capisco è come se tu guidassi in automobile tu quando guidi l'automobile c'hai la visuale davanti se ti giri c'hai il finestro c'hai i retrovisori però c'hai un punto morto c'hai l'altro però c'hai un punticino morto che non vedi da te tu pensi di riuscire a girarti e vedere quel punto morto e non andare a sbattere con la macchina o io penso che oltre ai miei due migliori amici prima di loro ci sono io cioè nel senso io sono il mio unico migliore amico vero perché sono l'unico che vuole del bene a me stesso ok poi dopo di me ovviamente sono loro quasi a pari da quanto mi voglio bene io mi conosco molto bene so gestire tantissimo le mie emozioni so gestire tantissimo tutto mi conosco e il problema è proprio questo è che mi conosco forse troppo bene ma non ti fa paura che sei così in grado di gestire? me lo chiedono in molti a me fa paura lo sai qual è il problema? è che se una persona ha un problema mi scrive perché sa che io sono una tra le poche persone che riesce a gestirlo in modo ragionevole leva gli altri no anche delle altre persone per dire ho il culo gli altri io sto a parlare di te con te stesso io mi conosco così tanto bene che so gestire tutte le mie emozioni questo è il problema e so cosa potenzialmente può succedere se dovessi prendere una determinata scelta anche che può essere una scelta privata familiare di amicizia lavorativa amorosa eccetera la mia mente apre milioni di ramificazioni ok è come un algoritmo e visualizza tutte e quindi mi fa prendere la scelta migliore ok cioè è allora nella questione amorosa ci sono tantissimi problemi anche perché faccio un esempio che ne sai te se cioè se io un domani dovessi fidanzarmi con una persona dovessi sentirmi con qualche persona passerebbero mesi e non quasi anni cioè anni no vabbè troppo però passerebbero mesi prima che prima di dirlo pubblicamente e quindi non la vivi la vivo ma in modo ristretto che però cevo sta nessuno dice quello di mettere in pubblica piazza però ma per me pubblica piazza significa anche uscire con te però c'è una cosa importante da questa cosa dell'aspettare i mesi così a non fidarsi della persona no non è che non mi fido ovviamente mi fido fino a una certa nel senso però vedi lo vedi però però c'è sempre c'è sempre ma io non ti dirò mai il cento per cento di me però però non t'ho mai sentito di ok ma non cento allora superare un limite in generale non è un cento per cento no l'unica persona che sa il cento per cento di me sono io e per fortuna sono contentissimo veramente io sono contento che tu sia l'unico che si conceda al cento per cento perché se ti concedi al cento per cento a una persona personalmente io c'ho paura che ti metti completamente totalmente nelle mani da quella persona e a me sta cosa ti parlo personale è una cosa mia personale però è come se saltassi è come se salti dalla questione pubblica alla questione della fiducia alla questione del fare le piccole cose è come se tu dicessi porca miseria io non ho mai fatto questo non ho mai fatto questo questo e quest'altro ma nelle varie ramificazioni della tua testa non trovi una soluzione nell'eventualità differente per farla è questo che ti dico e io qui in questo noto la contraddizione capito? non riesco a capire la cosa che mi sfugge a me forse veramente è un mio limite è ok comprendo le mie emozioni sono così sicuro di me comprendo il dolore com'è possibile che non riesco ad aprire a darmi ok mi apro sta porticina cioè presente una porta così piccola tu te apri una porta così piccola e dici ok faccio sto piccolo tentativo per vedere questa parte di me io l'unico modo in cui mi apro un poco con una persona è quando loro mi raccontano di un loro trauma di un loro problema ok che fatica perché? wow cioè ti rendi conto che una connessione no no ti spiego perché ti spiego perché perché aprendomi riesco a fargli passare il problema ti faccio un esempio spiegami bene che è interessante succede molto spesso se te hai un problema in qualsiasi ambito ti stai male hai lidiato una persona o qualsiasi cosa e vieni da me e mi parli quel problema io parto io capisco il tuo concetto poi parto dicendo ho vissuto una cosa simile perché ho vissuto in realtà io ho vissuto tantissime cose però non le dico dico ho vissuto una cosa simile racconto la storia e dico l'ho superata così quindi io ti do una mano per superarla e poi molto spesso succede che ore dopo giorni dopo mi dicono bro grazie mi ha servita ma ti dico una cosa stupida anche nel mondo del web tantissime persone si sono lasciate e se la viviano male venivano da me e parlavano e ricevere non pubblicamente ma semplicemente privatamente determinati messaggi o quando parlavamo mi diceva comunque grazie a me ha fatto super piacere anche semplicemente di ci sono persone sia nel mondo del web che non che litigano tra di loro per x motivi io è solo in quel momento che te mi racconti un trauma o una cosa brutta che stai vivendo e ti racconto una piccola parte di me per aiutarti a te so se mi sono spiegato lo capisco ho capito quello che intendi però allora io ti dico che uno la base il principio primo della psicologia è tutto sbagliato quello che hai detto no 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 è che non esiste una realtà vera ma esiste una realtà percepita mettiamo che io e te io ho avuto la stessa storia che ci hai avuto con Ross prendo quell'esempio perché con l'amore è più facile io ho lo stesso percorso tua o uguale ma io può darsi che viva e percepisca le cose in una maniera completamente diversa della tua quindi quando io ti dico oh sì mi è successo questo così così e tu mi dici no guarda ascoltami ho vissuto pure io vabbè non faccio così no no io sto esagerando sto esagerando ho vissuto pure io io ti posso dire ok quando uno empatizza con l'altro ci può essere comprensione e fiducia e io su sta cosa no perché se tu comprendi un mio trauma e mi dai anche una cosa io non è che poi mi fido io ti dico personalmente non apro la fiducia non mi fido nemmeno perché magari in quel momento sto talmente male sono talmente distrutto che semplicemente parlarne con un altro essere umano mi fa bene è questo che ti dico è un po' partire è un discorso guarda siamo entrati in un buco nero questo è un buco nero è difficilissimo perché anche perché in questo momento siamo su due piani comunicativi completamente diversi perché io tu hai sempre sta vena molto più raziocinio io invece ho sta vena più de pancia ok vuol dire che il mio cavallo bianco sta andando verso l'iperuraneo di più oppure ho preso è solo un coglione oppure il tuo cavallo bianco rimane limitato a quella cosa io invece andando con la pancia spacco l'iperuraneo e trovo un'altra cosa ah sì questa è lamentata lui ne esiste stacce platone non l'ha mai detta sta cosa c'è di vista ma platone è superato platone è superato basta basta no però senti in tutto questo in tutto questo dopo che abbiamo superato pure platone c'è qualcuno studia di filosofia una faccia così ma dopo che abbiamo detto la mia materia è in cui andavo meglio a scuola di filosofia lo sai pure io ti faccio una domanda ma in tutta questa roba relazioni fiducia eccetera eccetera siamo persi un perno che è uscito ogni tanto fuori la famiglia nel senso allora che cos'è oggi per te la famiglia e nell'eventualità quanto è stato difficile far capire alla tua famiglia che quello che facevi perché allora cerchiamo è difficile oggi di dire faccio lo youtuber faccio lo streamer figuriamoci anni fa quindi che cos'è la tua famiglia per te? questa è una domanda che mi devasta no allora la mia famiglia come famiglia intendi mio genitore e mia sorella la famiglia persone che gli do in mano anche il mio conto in banca i miei conti in banca le mie cose dove sono sicuro che non faranno mai nulla contro di te contro di me anzi il mio più grande hater è mio padre perché mio padre mi chiama almeno una volta a settimana è presente The Wolf of Wall Street pensa che io sono Di Caprio e lui è il padre di Di Caprio perché spendo troppi soldi per x cose e io provo a dirgli no pa ma questo è cena di lavoro io e papà l'ultima volta abbiamo vissuto un discorso del genere è stato ieri dove mi ha detto edo ma perché nelle dichiarazioni dei redici a questo quello e quell'altro ma perché hai speso questi soldi ok e quindi mio padre mi sbrocca perché spendo troppi soldi ma anche una cosa stupida come dicevo che io ho ancora determinati valori mio padre mi sbrocca che io volo in business class questa è una grandissima cazzata mio padre mi sbrocca anche se col treno io prendo la prima classe piuttosto che la seconda dice che te frega ma per tre ore per due ore lo spendi e io faccio fare so quindici euro in più so dieci euro in più so venti euro in più e poi dico poi è un viaggio di lavoro me lo fatturo pure quindi il mio più grande hater nei soldi è il mio padre quindi so che è l'unico che non può farmi niente anche mi madre perché mi madre in realtà non sa come se passano i soldi dal mio conto al suo quindi è per quello quindi saluta la mamma sono sicuro sono sicuro che non potrebbe farlo perché gli posso dare pure la banca non sa come si fa una transazione no scherzo scherzo però nel senso su loro sono sicuro mi dispiace cioè io tipo la mia famiglia la sento poco e di solito quando la sento è o che sto portando a far fare i bisogni ai cani o che sto facendo magari un sto in macchina che quindi con il bluetooth parlo con loro però tra una cosa e l'altro riesco a sentire ma non li sento neanche più tantissimo cioè loro sanno che comunque gli voglio bene io so che anzi spesso sono proprio loro che se stiamo troppo al telefono mi dicono so che sei pieno di lavoro devi fare alcune cose devi fare alcuni progetti bla 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 quindi ok non ricordo neanche più l'ultima vera vacanza abbiamo passato insieme penso e questo è un peccato no vabbè ok qualcosa sì mi ricordo qualcosa però non riesco più a vivere determinate situazioni con loro anche perché è diventato difficile molto difficile io mi piacerebbe in un futuro da ridargli tutto quello che loro stanno dando in questo momento a me in quanto hanno creduto nel mio progetto e quanto mi hanno dato prima ti dico una cosa perché dico che hanno creduto nel mio progetto perché io poi ne ho parlato pochissimo ma ho avuto un un torto economico da parte di una persona di cui mi fidavo ok torto economico si parla cioè torto economico di infiniti soldi ok ok se non è se parla dei 20 euro e mio padre è stato il primo che mi ha detto hai ricevuto questo torto economico è giusto che tu l'abbia avuto a questa età perché questo ti farà crescere io in una piccolissima parte di questo torto economico ti riaiuto a ritirarti su ok quindi hanno cioè la mia famiglia hanno sempre creduto in me tutte le cose che ho fatto è stato difficile anche il trasferimento che comunque io a settembre 2018 mi sono trasferito a Milano poi fortunatamente è andato bene il mio progetto tutte le mie cose perché adesso cioè stiamo parlando in una casa che ho comprato a Milano e per un ragazzo così giovane è importantissimo molto bella tra l'altro grazie mille è importantissimo e io spero in un futuro di riuscire a ridargli almeno in parte quello che mi hanno dato cioè che può essere anche una cavolata ma farli stare tranquilli io lo spero poi so che purtroppo per come sono fatto io non ci riuscirò mai ok però lo spero ok allora adesso molto spiazzo allora adesso sentendo te parlare ma è un pochino che parliamo t'ho guardato bene e ti faccio una domanda dietro pure le tue parole è come se ci fosse c'è presente una cosettina nascosta che ogni tanto è questo quando c'è qualcuno nascosta e fa capocella come ti dice no che esce fuori e che ho notato c'è quasi una vena quasi di solitudine malinconica e ti chiedo proviamo a provo a spiegarmi meglio per esempio quanto è stato sofferente per te per esempio quando ti sei lasciato o quando hai chiuso il percorso pubblico valespo o ho detto pubblico sono amici se vanno bene ho detto il pubblico quindi la cosa perché sennò qui eh quanto hai sofferto per quanto riguarda la questione del che non t'hanno che la gente t'ha quasi messo in un tritacarne ok t'ha fagocitato e non si sono preoccupati per esempio cioè cazzo ma quello era era il mio amore quello è il mio affetto che non t'hanno chiesto come si è banalmente dire un come stai ma di quelli sinceri una frase hai sofferto a sta roba lo sai che cos'è che ho sofferto il più oh bello dici il durante che il dopo il durante perché una cosa brutta mia è che sia nella relazione che nell'amicizia nel rapporto lavorativo che stiamo insieme mi sono sempre sentito un gradino sotto ok quindi ho sofferto più il durante che il dopo cioè no il dopo pure l'ho sofferto ok però in un modo diverso perché poi più le settimane passavano più scemava la cosa purtroppo io sono una persona che parla tanto si fa vedere tantissimo in giro ma come ti dicevo prima io sono uno dei ragazzi più umili che conoscerai piuttosto a quello che posso dimostrarti veramente lo faccio anche in questo mondo io in realtà mostro il 20% quello che faccio il 20% di quello che penso mentre magari molte altre persone mostrano il 300% ok e purtroppo io sia nella mia passata relazione che con Valerio io tutto il periodo Valespo ok io nella mia testa ero il secondo dei Valespo io durante la mia relazione ero il io ero il fidanzato di anche se in realtà non è vero anche se i numeri dicevano altro anche se le altre persone dicevano altro nella mia testa io me l'avevo così e forse anche per questo che io adesso ti parlo tanto di lavoro perché io mi sono spaccato al culo è il tuo orgoglio bro io so quella persona che non sono nato con un talento ma me lo so creato ok e che giorno dopo giorno mi spacco il culo per essere il più forte degli altri che se le altre persone lavorano 5 ore io te ne lavoro 15 al giorno perché dentro di me mi sento che sto un gradino sotto anche tuttora in questo preciso momento anche se te mi parli di Valespo quando facciamo un progetto io in questo momento mi sento sempre un gradino sotto a Valerio poi lo amo gli voglio bene eccetera però mi sento però mi sento sempre un po' sotto delle altre persone e forse da una parte sono felice perché sentendomi inferiore alle altre persone mi impegno di più se mi sentissi superiore magari lascerai tutto al caos ok però non mi hai risposto eh no ti dicevo io ho sofferto più il durante e il quasi fine piuttosto che la fine e adesso ma ma non hai sofferto per niente che magari a un sacco di gente ne fregava un cavolo di sta roba e gli interessava solo il gossipino boh si pure quando io ho visto il video il video dove dici hai messo gli spezzoni dove dici adesso faccio la costruzione del dover spiegare di dover fare quel video quando stai male del dover dire piano piano ritorno non vi preoccupate non è una cosa che ti ha strizzato tipo panno sì a me le cose che danno più fastidio è quando devo spiegare una cosa anche dall'asempio di battuta se io ti faccio una battuta e poi devo dire no è uno scherzo è una battuta perché in realtà intendevo questo è una critica sociale a me dà un botto fastidio stessa cosa cioè se io un domani dovessi litigare tantissima persona me dovessi cioè qualsiasi cosa io se te lo spiego è perché voglio farlo io non perché sono obbligato è lo stesso discorso del covid la gente non gli dava fastidio a stare dentro casa gli dava fastidio che era obbligato a stare dentro casa la perdita della libertà bravissima ed è la stessa cosa per me sul web a me non mi dà fastidio spiegartelo mi dà fastidio che mi obbligate a spiegare una cosa ok mi obbligate a anche la questione che poi ci torniamo sempre però che sono andato in Corea la gente faceva a quanto sei sotto a me dà fastidio spiegate che in realtà avevo un accordo con Calvin Klein e ce l'aveva anche lei dovevamo fare dei contenuti perché te lo devo spiegare io non sono obbligato a spiegartelo certo però te senti in dovere di farlo mi sento obbligato non in dovere mi sento obbligato a farlo anche quando in realtà nessuno mi obbliga ma se non lo spiego è un problema cioè io sui social voglio sempre essere me stesso voglio cazzeggiare mi piace divertirmi però poi ho un blocco su molte cose perché pure te ti accorgerai che più andrà avanti è come quando guardi un film di Chris Nolan ok ok te prima di capirlo al 100% lo devi dire 3, 4, 5 volte questa è la stessa identica cosa questo discorso tu adesso lo capisci in un modo fra 6 mesi lo guarderai lo capirai in un altro modo tu farai un anno in un altro modo è come quando guardi Bojack Horseman ogni volta che lo guardi a distanza di tempo ti lascia qualcosa dentro e riesci a percepire qualcosa di diverso questo ti consiglio guardatelo adesso guardalo poi fra un anno fra tre anni e dici e tu hai ragione ok come la vedi magari io provo a seguire questo tuo consiglio e ti dico molto sinceramente faccio fatica perché anche io io sono molto testardo pure io ho una visione del mondo però il fatto che io mi intestardisca poi mi fa aprire la porta e quindi lo farò sicuramente ok però ti chiedo a proposito di apertura di porte come la vedi se magari per il futuro provi ad aprire una di quelle porticine che tieni sempre chiuse una di quelle cose che dici no non lo faccio mai non l'ho mai fatto una volta e con chi dovrei farlo e questa è una cosa che devi decidere tu capito puoi scegliere tu l'ambito basta che non sia al lavoro perché eh no è perché sul lavoro vai troppo sul facile sul lavoro poi sei troppo forte sarebbe troppo facile comunque mi piacerebbe pure capire in realtà come tu ti senti perché essendo così predominante il lavoro cioè dovrà come ti fa sentire ti farà sentire una merda cioè una cosa aspetta è una merda quindi una cosa cioè c'hai parecchio da di? sì vabbè allora dai facciamo così ok e oggi te lascio te piscio te lascio perde oggi ok ne parliamo la prossima volta ok la prossima volta quindi mi sei è finito no se vuoi possiamo continuare altre 12 ore però io vorrei che tu a me mi interessa che apri la porticina va bene eh sì hai capito stavo in difficoltà subito subito si è ributtato sul lavoro visto come si era ingalluzzito avrebbe fatto altre due ore ok quindi la prossima volta parliamo del lavoro sì te lo prometto